Aprete la copertura del impianto. Riempite il cartone del toner. Riempite la cassetta di piazza. Riempite il pannello fronte. Non c'è scritti. Devi rilassare le hoaxe nella parte del pannello. Potete usare un pilota di scrittura. Riempite la parte del pannello. Riempite la parte del pannello. Riempite la parte del pannello. Riempite la copertura. Ha due tappi. Riempite la copertura per rilassare le due tappi. Riempite la parte del pannello. Riempite la parte del pannello. Ha due tappi. Riempite la parte del pannello. Edite le due rotelle. Detachate le due cable flat. Le cable flat of the unit. La scena è riempite. Riempite questa pin. Qui c'è un altro pin. Remove the pin in the support of the cover. Now slide the scanner unit to the right and remove it. Take the scanner unit and detach the two tabs. Separate the two parts of the scanner unit, upper part and lower part. Here you can see the two oaks. Remove the screws. Take the scanner unit to the right and lower part. The last screw. Using a flat screwdriver, detach the tabs and remove the glass assembly of the scanner unit. This is the scanner. It's here. This is its position. Clean the window of the scanner using alcohol and cotton swab. The glass is glued. It could be difficult to remove. It's here. It's here. It's here. It's here. It's here. It's here. Grazie.